Questo non capisce niente, ogni volta io mando una circolare con delle richieste, con delle necessità che... buonasera signora, mi scusi eh Guarda chi ti ho portato, allora Chi è? Ormella Parogna? No, stavolta mi sono superato perché devo dire che tu hai fatto una richiesta bellissima veramente ti voglio fare i complimenti Guarda, non mi viene proprio in mente nulla Ma poi ci sta proprio... Posso andare a fare con questa signora? Ci sta proprio precisa, proprio in questo momento della trasmissione perché sul fax c'è scritto Io ho scritto un fax E a questo preciso istante della trasmissione il maestro Perris parte con la nonna di Beethoven No! E quindi... Ma andiamo signora che deve... Ma dove deve partire? Deve partire col maestro Perris Ma il maestro Perris non prende un aereo da 50 anni Ma parte con la nonna di Beethoven La nonna di Beethoven, la nonna E che reggipetto c'ha? Sei un cretivo No, chi non sbaglia non fa E ricordati che sono scemo ma non stupido Prego, arrivederci Vada, vada, vada Ma è sbaglio sempre, ma è incredibile Grazie a tutti! Grazie a tutti!